Non un video scelto a caso perché proprio qualche giorno fa, precisamente il 24 maggio, è uscito al cinema La Srenetta Live Action ed è qui con me la stilista e creatrice del mio abito, Naira Laise, a cui ho chiesto se è andato già a vederlo. Ciao Naira, buonasera a tutti, ciao. Ma no, mi mancavi tantissimo. Anche tu, oggi sei una principessa tra l'altro, oggi siamo direttamente nel Regno Unito. Cioè io ho detto, ormai dico sempre, cioè tu sei la principessina di Cusano TV, quindi devo essere all'altezza, no? E tu sei la regina di Cusano, io sono la principessa e tu sei la regina, sei meravigliosa, mi piace tantissimo. Abbiamo anche un foulard, non a caso, perché oggi parleremo anche di quello. Facciamo un minimo, un commento appunto sulla Srenetta, perché mentre lei guardava il trailer, si è quasi commossa. E hai detto, è la mia storia, raccontacela. Sì, no, mi sono commossa perché penso che sia fondamentale. Le bambine anche nere, io tu lo sai, anche perché non ho bisogno di nascondere, si vede. Comunque hai una carnagione meravigliosa, chiunque ha una carnagione meravigliosa, e nel senso secondo me non c'è neanche questa distinzione brutta, perché tutto nasce dalla Srenetta, senza da dire, la Srenetta è nera. Non corrisponde al Disney originale, nel quale appunto Ariel è bianchissima, tra l'altro, con questi capelli rossi. E invece poi il regista ha voluto scegliere un altro personaggio, un'altra attrice, che possiamo dirlo, io l'ho vista la Srenetta, comunque la veste veramente al meglio. Benissimo, lo sai che è? È che quando inizieremo a vedere l'individuo dal suo talento, dalla sua essenza, dalla brillantezza negli occhi, da quello che è in grado di fare, e ci dimenticheremo dal colore della pelle, secondo me smetteremo queste conversazioni che arrivano anche ad essere inutili. Perché se parliamo nel mio caso, anche io vengo da, cioè ho creato un matrimonio misto, io sono discendente di Indios e mio marito è europeo, ma insegno sì i miei figli questo, però non vado a inferire troppo su queste cose, perché dal momento in cui vado a parlare troppo di questo, è come se metto in evidenza la differenza che c'è nel mondo. E forse con questa Srenetta si è parlato troppo della differenza e meno del fatto invece che siamo letteralmente tutti uguali. Esatto, cioè secondo me dobbiamo vedere il talento, dobbiamo vedere quello che una ragazza, una donna è in grado di fare, che va molto oltre al colore della sua pelle. Se ci soffermiamo, e dico io, per quello che io faccio rappresentando il Made in Italy, essendo di discendenza indigena, se tu vai a vedere sono due cose che non si sposano bene. E quello che io ringrazio tanto l'Italia e chi è del mestiere, ma anche le persone che acquistano non soltanto i prodotti, ma lo stile di vita, quello che io prego nello stile del mio brand. Se vado a inferire troppo su queste cose, cioè rimane troppo una bandiera sul colore della pelle, invece no, è sul talento. E tanto altro. Maera, possiamo dirlo tra qualche giorno, con chi sarà e alla presenza di chi? Possiamo dirlo? È una notizia top secret? No, no, assolutamente, anche perché ho già diffuso nei miei social, sono molto veramente, sono molto onorata. Allora, noi siamo come brand, saremo gli unici brand in questo evento di Doc Italy, è un evento bellissimo per tutti i consoli dell'Italia. E quindi ci sono queste autorità e noi come brand di moda, il brand Night Live, sarà l'unico brand ad essere via Palazzo Gaetani. E ci sarà anche una persona molto speciale, non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Sì, il giorno successivo sono stata invitata, proprio in occasione di questo raduno dei consoli qui in Italia, sono stata anch'io invitata a questa udienza. Insieme al Papa, al Papa Francesco. Esattamente. E quindi sarà un'emozione, immagino che, penso che ormai l'emozione si senta anche giorni prima. Sì, 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 ed ecco quello che ti dicevo. Se smettiamo di vedere altro, cioè guardiamo oltre il colore della pelle, oltre che all'immagine dell'individuo, ma quello che è in grado di fare, quello che sono i suoi propositi, tu vedi, io metto la mia anima su quello che è il proposito della, non solo dell'eleganza, dell'immagine, ma l'immagine curata bene, ma proprio del Made in Italy, cercando di portare la bandiera di quello che è il Made in Italy, fatto da imprenditori anche piccoli, no? Che con sacrificio cercano di mantenere l'economia di questo paese. Vedi, alla fine sono state invitate per me veramente un grandissimo onore. Ma tu ti meriti tutto, la tua scalinata verso il successo sarà sempre più alta e te lo meriti, te la meriti, te la meriti. Grazie, io ringrazio veramente Doki Italy per fidarsi di me come ambacciatrice loro e portare, perché non è semplice affidarsi, indicare una persona per portare il tuo nome, no? E ringrazio Doki Italy per avermi fatto questo invito. E io invece ringrazio te per avermi portato quest'oggi questo abito, che come sempre a questo punto lo commentiamo, perché siamo in estate, per me possiamo dirlo, siamo praticamente in estate, iniziano le temperature calde. Alleluia! Oggi sta finalmente caldo, ci coloriamo, quindi oggi mi hai colorata con questo abito meraviglioso, e qui comunque siamo su un elegante, ma non elegantissimo, nel senso che abbiamo avuto dei vestiti ancora molto più eleganti. Questo forse è ancora più nel mio stile, perché è molto semplice nella sua eleganza. Sì, sì, e questo secondo me è l'abito perfetto per tutto, appunto tu parlavi di queste occasioni anche mattutine, no? Cioè, durante, che si svolgono durante la giornata. Quest'abito è perfettamente abbinabile a un battesimo, a un, anche un matrimonio, perché no? Un matrimonio che si svolge all'aria aperta, no? Il giorno, durante il giorno, in una location molto più fresh, molto più, anche semplice, ma più che altro molto fresca. È vero, molto, molto fresco. E tu l'hai abbinato perfettamente con questo tacco a blocco, che è perfetto anche per questi pavimenti, perché di solito questi matrimoni, questi eventi si svolgono a pavimenti non molto stabili, no? Posso dire una cosa, sono le scarpe più comode che ho, perché il tacco così, basso, e anche un po' grosso, a blocco si dice, ok, io imparo sempre in qualcosa di nuovo, sono le scarpe più comode che ho. Sono pazzesche. E sei elegante, poi ricordiamoci che le scarpe con la puntina è un po' più affusolata, un po' più fine così. Purtroppo si rovinano però camminandoci. Sì, però sono più elegante perché tendono a slanciare di più di quelle tondine, ricordatevi questo, le scarpe a punta, tendono a slanciare di più la silhouette di quelle a punta. Ecco perché Coco Chanel, hai visto le, ogni tanto faccio vedere le scarpine quelle con la punta nera, no? Sono tendenzialmente un po' più tonde, ma lei ha fatto in quel caso a punta nera per accorciare, rivolgere. Il piede, in qualche modo, accorci il piede o proprio tutta la silhouette? Cioè proprio come, allora, Coco Chanel aveva dei piedi molto più grandi paragonato a tutta la sua struttura, che era magrolina, piccola, e lei aveva dei piedi un po' più grandi. E lei ha creato questa, si è utilizzata dell'ottica per creare la punta nera per dare l'impressione che era un po' più piccolo. Quindi invece se volete far vedere che il vostro piede è più slanciato, più slanciato, così come le mie, a punta. E nude, più vicino al colore della pelle. Così allora sembra che io ho un 45, ma invece ho un 39. Però molto molto interessante, e anche le tue scarpe brillate, come al solito tu sbrellucci come sempre. Il mio 36, il mio misero 36. È bellissimo, è bellissimo 36, anzi come 39, 40. Ma andiamo avanti, allora, noi oggi abbiamo parlato appunto del periodo, parleremo del periodo estivo, quindi di come vestirci, ma ovviamente con Naira, con eleganza, perché Naira è sempre elegante. Grazie. Quindi a questo punto chiamiamo la prima immagine di questo primo capo di abbigliamento, che appunto è estivo ma elegante. Vai Naira. Esatto. Allora, questa è una domanda che ricevo spesso nei miei social. È possibile mantenersi elegante durante la stagione più calda? Sì, è possibile. Innanzitutto la prima cosa è, state attenti ai tipi di tessuti, i tessuti naturali, il cotone, il lino, tantissimo. Esatto, esattamente. E anche l'abbigliamento da mare, cioè come vedete questo è un abbigliamento molto comodo ed è anche molto elegante, quindi non c'è bisogno. Rivediamolo un secondo, ma questo quando io l'ho visto mi è sembrato un costume, invece no, è un top? No, no, è un abbigliamento da mare, è un costume da bagno, molto semplice, elegante, cioè non ci sono troppe, no, alle volte fanno tanto di frufru e tutto quanto, non c'è bisogno di tutto quello, il semplice paga. E per Naira basta che c'è un cinturino, allora vuol dire che è tutto elegante. No, perché è vero, Naira, a te piace tantissimo il cinturino in vita? Sì, perché io sono una gamine, il mio tipo di corporatura, secondo la modalità Kibbe, che è un americano che ha diviso in 13 tipi di corporature, la mia è una gamine stravagante, che vuol dire gamine viene da ragazzo. Io effettivamente non ho il punto vita molto evidenziato, che era quello che parlavamo anche di Megan, no? Sì, di Megan, lo ricordo, con i cappotti. Esatto, però questi sono, non è che tutti devono utilizzare il cinturino, però nel mio caso, anche nel caso di donne che non hanno il punto vita molto accentuato, un cinturino può dare quel, sai, quel tocco un po' più femminile, esatto, che dà l'armonia, la fisicità. Però possiamo dire che oggi non è il cinturino, ma sei. Stupenda, lo stesso, vai per la seconda immagine di questi capi estivi, ma eleganti, vai, qua stiamo sul bianco, quindi già il bianco richiama l'estate, così. Guarda, questo qua, la cosa che mi ha chiamato attenzione è, guardate, c'è un blazer di lino, una giacca di lino, come vedete non è, usate al massimo su questa lunghezza, che è la metà dei fianchi, perché? Perché così potete abbinare, come ha fatto lei, tranquillamente con gli abitini, le abitini estivi, logicamente non quelli di molto movimento, perché lì litiga un po' con la larghezza, no? Della giacca. Però i blazer di lino utilizzerete, se capite la vostra corporatura e anche i capi che avete, utilizzerete tantissimo, mi dite, ah, ma di estate, sì, di estate, perché lino è proprio il tipo di tessuto, esatto. Per tenersi freschi tutta l'estate. Esatto, principale per l'estate. Ci piace. Vai con la terza piccola, sto andando un po' veloce perché ho paura che il tempo scorre. Questi sono dei pantaloncini, se non sbaglio, dei shorts, e sarebbero tantissimo il mio stile perché io amo i pantaloncini corti, ma anche di questa taglia, come si dice, questa forma? Sì, sì, con questo design, perché questo è un pantaloncino. Ecco, vedi, come si dice, il design? Il disegno dell'abito, del pantaloncino, guarda. Io mi punto tutto così, la prossima volta ti dico i termini in più. Io dico sempre, io parlo sull'eleganza, quindi sono coerente su quello che parlo. Allora, se mi dite come posso fare per essere fresca col caldo? Evitate i pantaloncini jeans, potete utilizzare, indossare tranquillamente questi pantaloncini in lino, che sono un po' più alzati. Vedi che è un po' più alzato nel punto vita, che ha queste pieghettine, ma anche senza, semplice, taglio sartoriale con le taschine. Sartoriale significa che prendiamo un po' del design del guardaroba maschile, semplice, con i taschini tipo bermuda e basta. Abbiamo finito, fatemi vedere che le sono. Vedete che chiedo la regia, abbiamo finito, devo chiudere? Mi dico Anistina, io non ci ho fatto minimamente caso, abbiamo già concluso la nostra quarta d'ora. Come dico sempre, quando una conversazione è buona, è proficua, c'è positività, non vediamo mai il tempo passare. Ma tra l'altro abbiamo ancora tantissime immagini. Del full art. Perché tu mandi ogni volta continuamente tantissime immagini, ovviamente perché io te le chiedo per avere tantissimo materiale, però riusciamo a fare due perché mai non ci perdiamo in chiacchiere. È bello così, no? Esatto, però a questo punto diamo l'appuntamento per sabato prossimo per continuare ancora sui capi estivi mai leganti, ma a questo punto anche per il full art che tu oggi avevi messo a punto per l'occasione. Ma a questo punto ti dico, settimana prossima, se il tempo lo permette, rimettete il full art, così ce ne ci fai vedere. Sì, sì, avremo un motivo in più per vederci, per continuare la nostra conversazione. Assolutamente, Naira, grazie mille come sempre. Grazie a voi, grazie a te, grazie a tutti quanti. Ma tanto noi ci vediamo sabato prossimo con un altro abito e io ho già visto qual, ho già provato qualcosa, molto molto bello, quindi la curiosità non vi dovrà mancare. Io ringrazio come sempre Emanuele, Mazzello e Renzo Rocchi in Regia per l'Ottima Regia e noi ci vediamo sabato prossimo sempre con Pettegolezze Social. Ciao!